Il tempo si è fermato per il Museo di Bassano. È fermo lì immobile da troppi anni. Ha bisogno di novità, ha bisogno di una, attenzione anche di una dirigenza più coraggiosa, più forte, più capace di vedere le nuove gestioni dei musei. Questa è una gestione molto vecchia o non è una gestione? Quella del museo non è una gestione. È durissima l'assessore Donazzandopo, l'ultima bufera che ha travolto un museo civico già martoriato da polemiche di ogni genere, ma soprattutto da una carenza oramai cronica di visitatori. Ha lasciato il segno l'accorato, clamoroso sfogo del presidente degli amici dei musei Oscar Ganzina in una sala espositiva semi-oscura, perché ormai manca persino la luce per illuminare le opere esposte, tra la polvere che ricopre le statue e a fianco di lavori di restauro che, e la denuncia, hanno peggiorato la situazione come in sala Chilesotti. L'impianto di condizionamento manda giù di quei fendenti di aria fredda, gelida, che vedi le persone che si spostano da una parte e dall'altra. Ecco, sapete la risposta data dall'ingegner Bonato, dalla Federica Bonato? Ah ma tanto qua si sta seduti poco. A giudicare da certe cifre, al museo civico non solo si sta seduti poco, non ci si entra proprio. Sale in questi giorni semideserte un bilancio che piange un vertiginoso buco da un milione e mezzo di euro. Io soffro nel vederlo così poco valorizzato, così poco amato, così poco aperto ai cittadini e ai turisti, perché la difficoltà è che non c'è una gestione che vede il museo come una risorsa. Una risorsa inespressa che bisogna salvare il prima possibile, non solo per l'indotto turistico ma per l'identità stessa di una città d'arte, nella quale i luoghi dell'arte danno l'impressione di essere stati abbandonati.